Grazie Larry, grazie per questo saluto anche da parte di Lorenzo Ricci, il nostro terzo direttore e tutta Villa La Pietra e NYU in generale, noi siamo molto onorati di poter collaborare con la Fondazione Zeri, in realtà non è la prima collaborazione, abbiamo lavorato insieme a Francesca Mambelli e tutto il team con il direttore Andrea Bacchi perché dal 2019 abbiamo iniziato un po', mi piace chiamarla avventura perché ancora non vediamo la fine di questo viaggio che è la digitalizzazione, quindi del nostro archivio fotografico, tra l'altro uso la parola archivio fotografico ma in realtà dovrei chiamarla raccolta di fotografie della famiglia Acton e questo è il tema di cui vi parlerò oggi, with no father delay come si direbbe in inglese. E anzitutto quando gentilmente la Fondazione Zeri, Andrea Marchi e Elisa Camporeale che ringrazio per quella curatela di questo convegno, mi hanno invitato a presentarvi un argomento che era relativo alla famiglia Acton, ho pensato ovviamente subito al progetto della digitalizzazione e alle immagini fotografiche per due motivi, primo perché è il lavoro di cui mi sto occupando concretamente, quotidianamente in questo momento, insieme ovviamente a altre attività museali e secondo perché la fotografia gioca un ruolo fondamentale come abbiamo visto ieri e l'altro in quella che è la formazione della storia dell'arte. non mi dilli, non aggiungo altro perché c'è una bibliografia ricchissima, vi ho soltanto accennato un quaderno appunto a cura di Costanza Carafa ma come non citare il magnifico saggio nel catalogo della collezione Berenson dei Tatti sulla fotografia e il connoisseurship. Tra l'altro anche con Ilaria della Monica abbiamo continui scambi anche per quanto riguarda la metodologia perché noi curatori ci troviamo a dover soprattutto approntare delle linee guida per far sì che chi utilizza poi il materiale fotografico possa accedervi facilmente. Ecco inizio qui la mia presentazione facendovi conoscenza di una fotografia annotata e importantissimo all'annotazione preso dal treno in marcia a Soutry fra Vevey e Lausanne dal mio amico Mr. Conn con la lecca, quindi si appunta l'uso di quale macchina fotografica, dettaglio in ombra e non troppo bianco sul muro nel sole. È piccola perché in realtà era di riferimento però ho venuto a leggere per sottolineare l'importanza di come l'archivio fotografico ci ha portato, in inglese diremmo finally ma non nel senso alla fine, nel senso finalmente, nel senso positivo del termine a entrare in quella che è la voce, la voce della famiglia. Infatti quali sono adesso gli strumenti per conoscere quella che è la storia e la modalità della creazione, dell'allestimento della collezione a Villa La Pietra. Abbiamo appunto l'archivio fotografico in Fieri, abbiamo moltissime annotazioni, lettere, archivio di source, di fonti esterne, quindi per esempio vi faccio qui l'esempio dell'archivio Stibbert che ha diverse lettere conservate di corrispondenza fra Hortense, Mitchell Acton e Stibbert, ovviamente tutte entro 1906 perché poi avviene la morte, quindi le fonti esterne e poi terzo ovviamente la raccolta libraria, sono oltre 12.000 volumi nella Pietra Library, tutte consultate attraverso la Fails Library, se voi andate nel nostro sito di Villa La Pietra, cercate Library e trovate appunto il catalogo e quindi potete vedere quelli che sono appunto i volumi. Qui vi ho fatto semplicemente una rosa per mostrarvi che la signora Hortense studiò a Berlino nel 1888-89 e quindi per un anno, diciamo un anno e qualche mese, fra l'altro interessante avete mostrato un certificato di passaggio di frontiera per studio, non ho avuto tempo di inserirlo ma anche per Hortense abbiamo un certificato di accesso per studio a Berlino in questi anni e lei legge decisamente volumi in tedesco, lo sappiamo perché il volume florentale Bill Howard Renaissance è annotato con piccoli cerchietti come usava Hortense extensively in varie pagine. Villas and Florence in Tuskery è l'argomento che forse interessava ovviamente per la creazione del giardino rinascimentale e neo rinascimentale Arthur Acton, però a quel punto anche figlio prenderà poi questi volumi per scrivere i suoi Tusk and Villas e poi non dimentichiamoci l'importanza delle arti decorative. Hortense Mitchell Acton negli anni 90 a Chicago, fa parte della Society che si occupava proprio della conoscenza, della divulgazione delle arti decorative. Anche a Chicago c'è un archivio su quelli che era l'antica Society che appunto andrà scorsa. Quindi il secondo elemento, il terzo delle fotografie e le fonti esterne è la biblioteca e poi ho messo un'immagine velocemente del guestbook che inizia nel 1923. Quindi anche con il mio collega Scott Palmer, che qui ringrazio perché molte delle mie collaborazioni avvengono con lui e che è docente di NYU e che si occupa delle digital humanities, stiamo lavorando sulla identificazione con ovviamente studiosi e sulla organizzazione di questo materiale del guestbook, quindi l'intreccio dei conoscitori. dal 23 agli anni 60 adesso abbiamo identificato quasi tutti i visitatori. Ecco, l'elemento che mi porta a parlare di fotografia e la famiglia sono gli allestimenti. Io mi occupo di storia del collezionismo, storia degli arredi. Dagli anni 90, così sembra ancora più becchio, diciamo che il mio primo ingresso nello studio del collezionismo degli arredi è stato nel 1992-93, anzi forse un po' prima, quando ho affrontato una collezione di cui vi accenno perché per chi inizia a studiare sicuramente il collezionismo a Firenze negli anni 70-80, il collezionismo anglo-fiorentino, è il nome John Temple Leader, quindi appunto sicuramente gli allestimenti alla neogotica, ne parlevamo prima con appunto uno studioso per quanto riguarda appunto il suo lavoro sulla raccolta sessa, il modello sicuramente è fondamentale, quello di John Temple Leader è venuto in Italia nel 1850. Quindi gli allestimenti mi hanno portato alla fotografia. Volevo sottolineare due elementi importanti in queste immagini. L'identificazione del crocifisso, il maestro di San Francesco, un'opera di grande valore che sicuramente merita uno studio approfondito, la professoressa Sonia Chiodo più volte lo ha visto e tra l'altro anche gli scholars dell'IFA stanno facendo lavoro sulla tecnica di questo crocifisso. In una nota nel photo archive, questa è diciamo un po' una chicca, ho trovato che è stato appunto, è pervenuto tramite Herbert Horn nel 1911. Quindi ecco abbiamo queste piccole pillole nel photo archive in cui possiamo finalmente navigare anche un po' nelle provenienze. Ecco un altro elemento che volevo sottolineare è l'uso del damasco dietro le opere d'arte. Questo si trova anche ai tatti, si trova in diversi dimori come per esempio la Bagatti Valsecchi, è interessante come alcune opere ricevono un'attenzione particolare, cioè come il damasco sembra utilizzato proprio per esaltare determinate opere. Non siamo andati qui nel dettaglio, ma nell'immagine del crocifisso c'è un pattern, c'è un tessuto che sembra quasi giocare e così anche nel mariotto di Nardo, nella sala del crocifisso, c'è un elemento del tessuto della Madonna che di nuovo si accosta, gioca. Ora quando andremo in collezione voi vedrete, ho scelto questa immagine apposta, che questi damaschi antichi purtroppo per motivi conservativi ai tempi di Maria Fossi Todorov furono rimossi con Beatrice Paolo Zistrosi, premessa che la collezione è notificata, quindi ogni passo viene concordato e approvato dalla superintendenza e allora, diciamo parlando del 2000, furono sostituiti con un tessuto fatto dall'antico settificio fiorentino, ma qui entriamo in un argomento di cui parleremo poi durante la visita. Vedete che il crocifisso si sposta da un corridoio, fra l'altro c'è un bel rilevo ultimamente studiato da Mauro Mussolin, nella sala che poi prenderà il suo nome, la sala del crocifisso. La fotografia ha un enorme valore educativo, a fotografia è worth a thousand words, through which a complex idea can be conveyed, with just a single still image. Pictures make it possible to absorb large amount of data quickly. Using photographs for explaining complex phenomena is one of the teaching aids of modern education system all over the world. Ancora oggi, questo appunto è un testo di Sadik, una studiosa che ha fatto questo bellissimo studio, proprio sulla fotografia e l'insegnamento, che mi piace citare, insieme a questa immagine di Harold, del piccolo Harold. Quanto ci dice? Quanto ci dice? Ci si può soffermare sull'automobile, sullo sguardo del bambino, sulla governante dietro, tantissimi elementi sociali, ma quanto ci vorrebbe? Dieci minuti in un'immagine tutto questo avviene. A noi non serve sottolineare, lo sappiamo bene, il potere delle immagini oggi ovviamente è ancora maggiore. Ecco, qui mi richiamo all'interessantissimo talk per me di Tappel. L'avevo già preparato al PowerPoint, era già pronto. Questo volume lo vedrete fisicamente nella nostra collezione. mi piace sottolineare come il volume appuntato di nuovo con Cicchioletti, quindi presumo Hortense, Michelecht, e come Hortense scorrazzava con la sua motorcar, la loro, un hour, anzi loro dicono la hour Fiat, comprata nel 1903, loro arrivano nel 1903 con la loro nuova macchina per le strade di Cicchioletti. E qui riferimenti che abbiamo già fatto negli scorsi giorni a Bardovinetti, ovviamente alla Hortense. È proprio, fra un lato, lo stesso viare che si vede, di cui abbiamo raccontato, che viene descritto anche da Fostel. Parlando di conoscitori, ringrazio Larry sull'importanza del saper, del voler conoscere. Io mi domando spesso, ma gli Hortense sono conoscitori? La mia risposta automatica sarebbe no, perché un conoscere, innanzitutto l'abbiamo visto ieri parlando di Platt, pubblica, invece Platt, gli Hortense non pubblicano. Niente. Il figlio, Harold, forse, è colui che aspirava a diventare. Secondo me ha sbagliato strada, doveva fare lo storico dell'arte, invece ha studiato letteratura, aveva un ottimo occhio, perché nel suo articolo della PUR del 1965 raccoglie attribuzioni da Zeria Boscovitz e commenta, molto importanti, l'articolo del 1965 è l'unico articolo che Harold scrive sulla collezione. Tra l'altro se ne pette, perché poi avrà un furto. Quindi forse questo l'ha aperto un po' la conoscenza, ma ovviamente questo è un joke fondamentale, il fatto che lui racconta in modo estetico, lui è un esteta, lui è un letterato, sa scrivere e combinare le parole, ne parlavamo ieri con la sua bacchetta. E parlando delle sue parole, on Roger Fry. Caroline, ho messo qui le pagine in cui Harold cita Roger Fry, ma poi sarò felice di condividerle. On Roger Fry's magic carpet of argument, for instance, the listener is also swept into an absurd, real word, balanced, and nutritious. On a precarious tightrope, he has an illusion of exquisite lucidity, but it is illusion. When he examines the picture in a spellbinder's absence, he will hardly recognize it. In its stat he had seen something different, perhaps a walk of art. A number of art critics are fakers who can perform remarkably rope tricks. For most of these, I think, was Roger Fry. For underpersons, the glow of his bangle lights, almost any amoeba could assume visionary shapes. Ho scelto questa perché è la più critica, no? Cioè, da una parte esalta e la capacità di narrazione di Roger Fry, dall'altra però sembra quasi essere tippioso, no? Sulla suo essere art critic. La lascio aperta e è interessante perché, appunto, uno sta stimolando. Viene da un libro che ha detto, come Herod, negli anni Quaranta, quindi nato nei Quattro, che ancora, secondo me, non si è avvicinato abbastanza alla storia dell'arte. Herod si avvicina alla storia dell'arte dopo la morte del padre, nel Cinquantatré. Tipico, no? Di un figlio che ha un padre, permettetemi dire, pesante e una madre invece leggerissima. Però la madre era con lei che lo portava alla lettura e alla conversazione, mentre il padre era un hands-on, un pittore, un collezionista, un dealer. Non mi soffermo su tutte le citazioni, ma queste sono tutte nelle memorie, è il libro pubblicato dopo la seconda guerra mondiale, fra l'altro è morto William, un fratello, è un momento difficile perché a quel punto l'eredità è sulla sua spalla, lo dedica William nelle memorie. Ecco, sottolineo due e tre parole, innanzitutto le frasi, between Bernson, McCormick, Loser and Perkins, one never knew what a fresh crisis had arisen, quindi questi batti vecchi, fra l'altro in Napolo parla di quel figlio di Bellini, ci sono di nuovo le guerre, it must have been difficult for hostesses, e poi lui da piccolo, my life was diversified by visits to picture galleries, and at the age of six, Botticelli was my favorite painter, lui fa dei piccoli disegni di Botticelli, e poi fa dei piccoli schizzi alla Bird's Day, e li mette uno accanto all'altro, e qui siamo a un'età appunto di sei anni. e I would ransack all the picture post-girls shops, nell'accolta Acton ci sono oltre 7000 cartoline, alcune annotate, alcune semplicemente plain, che sono un patrimonio molto interessante per la propria dinamica dei viaggi, delle conoscenze, e anche quelle acquistate ovviamente, ancora questo patrimonio non è stato acquisito, non è stato digitalizzato, e quindi aspettiamo nuovi progetti che forse faremo con i nostri studenti in collaborazione. Un'altra parola importante, my parents welcome half of one to the villa, as well as itinerant museum directors, and art critics who came to view the collection. quindi Harold guarda da piccolo, con questo sguardo ammaliato, no? Questo movimento, queste dinamiche. Per brevità, ho soltanto preso una parte della lunga lettera del 34, in cui Laura Mondi ringrazia il cugino William Henry Fox Talbot for sending me such beautiful shadows, no? mi chiama shadow. Siamo nel 34, siamo agli albori, proprio agli albori della tecnica, Talbot ancora non ha sigillato, no? Col brevetto. Fra l'altro tutta la corrispondenza è presente nell'archivio che vi ho citato qui. In questa immagine bellissima di Donna Rosa Lanza di Scalè, in costume alla persiana, mi permette di introdurre anche i grandi nomi, no? Mario di Minas Weiss, che era un fotografo fiorentino, che ferma nelle immagini proprio questa, l'importanza della, attraverso queste appunto shadows, che poi tra l'altro anche nella fotografia, che diventa una pittura quasi, no? Emerge proprio pensando anche a quello che è la pittura americana inglese degli anni 80, 70-80 di quegli anni. Vi ho parlato della digitalizzazione, ecco, se siete interessati, tutta l'indice del Table of Context lo trovate appunto in NYU Fails Library, sono 10 serie, ne abbiamo digitalizzate tutte 10, tranne scusate la serie 6, le postcards, con un sistema molto rigoroso, un sistema molto rigoroso di digitalizzazione perché il nostro backup è a New York nella Fails Library, quindi noi abbiamo archivi qua, fotografici, ma abbiamo tutti i file originali, raw, tiff, no, solo tiff, a New York. Questo è fondamentale, l'abbiamo anche imparato dai tatti e dalla Zeri. Archivio di famiglia, archivio di collezionisti, avendo seguito diversi corsi di fotografia, chiaramente sono sempre indecisa, no? Perché sì, sono dei collezionisti, quindi in realtà se dovessi fare una scelta è half in half. Lo vedremo poi nella pie chart che vi ho fatto, cioè la parte dedicata alla famiglia, al milieu è, se vogliamo speculare, a quella che è dedicata all'attività del collezionista, quindi sia interni propri, sia opere proprie e giardino, sia tutto quello che sono i viaggi, le conoscenze che fanno parte del bagaglio del collezionista. Una raccolta che va dagli anni 70 al 94, quindi gli inizi della storia della fotografia, daguerrotipi, pochissimi, ambrotipi, pochissimi, immagini sull'assi di vetro, molte stereografie albumine. Nomi importanti, ovviamente le carte des visites, ovviamente è un pioniere della fotografia in Italia, come Alphonse Bernou, Giorgio Sommer, Carlo Naya, Coleman e Vittorio Jacquet, Jacquet, scusate, Cecil Beaton, che era un carissimo amico con la fotografia che vi ho fatto vedere prima di Harold nello studio, era di Cecil Beaton, tra l'altro ci sono diversi volumi su Cecil Beaton, che visse 100 anni, dal 1908 al 2018, e vi invito, fra l'altro, scusate, era di Milton Gendel, no? Era Gendel, infatti sto facendo associazioni, perché anche Milton Gendel è rappresentato nell'archivio, non c'è qui il suo nome, e quella fotografia è nell'archivio di Milton Gendel, che visse dal 1908 al 2018. Fondamentale è anche andare verso certi fotografi come Beaton e Gendel, che riescono a cogliere l'atmosfera del ritratto in un certo modo. Harold è molto preciso in questo, per quello quando penso a lui come storico dell'arte dopo gli anni 50, perché costruisce un po' questa sua immagine, anche se non mi permetterei mai di chiamare lo storico dell'arte nel conoscitore, perché in realtà non ha gli strumenti, però ha le potenzialità, diciamo così, aveva le potenzialità. Ecco, qui vedete lo schema grafico, iniziato nel 2019, ringrazio tra l'altro Pamela Ferrari, che è presente in sala, a nome della Nenuayu, che ha collaborato concentrica con noi in questi anni e sta ancora andando avanti. Questi sono i suoi dati che mi ha messi insieme per un ultimo report, vedete il 53% sono small prints, il 21% sono postcards, large formats, quindi bellissime immagini che vedrete in collezione, 4% ovviamente opere d'arte, sono tutte opere d'arte, ma le large formats sono veramente straordinarie, e poi è interessante un 15% di photographic albums, di pagine, perché in questo 26.000, diciamo, i numeri spesso andiamo back and forward, perché se noi contiamo ogni immagine sulle pagine degli album, l'album è un oggetto, ancora non li abbiamo catalogati, che ha un suo senso, sappiamo bene, noi studiosi, noi che ci approcciamo alla storia della fotografia, quanto è importante il legame dell'album storico. Ogni fotografia però è un oggetto, quindi diciamo che siamo sui 26.000 oggetti fotografici. Quindi ecco, ne parlavamo, certo, non i 250.000 e oltre di plate, siamo lontanissimi dai numeri diversi, però considerando che nasce come raccolta di famiglia. Date, I always like to go back to facts, è importante capire l'arco cronologico, no? Vi lascio guardare da soli, mi soffermo solo sul fatto che l'acquisto del sette, Hortense vince, l'acquista con un dono, sì, di nozze del padre, domanda, perché si sposa, William è il padre di Hortense, si sposano nel 3 a Londra e questa enorme fortuna che lei si porta dietro, sogno sempre, questi bauli che arrivano, non sapere che cosa ci fosse dentro, sicuramente la parte economica arriva da Chicago, che è un costruttore di railways, di ferrovie e poi diventa un banchiere nella continenta Illinois Bank. Provenienze per ora conosciute attraverso fonti esterne, qualche nota sulle fotografie, Luigi Grassi, Giuseppe Salvadori, Herbert Horn, Charles Loeser. Horn e Loeser sono citati spesso sia in Apollo sia in memorie e ho pubblicato due o tre saggi in cui c'è questa rete di amicizia molto forte, Emilio Costantini, Stefano Bardini è ovviamente il dealer mondiale, tutti i studi della Anita Moskowitz e dell'Incatherson ce l'hanno fatta conoscere come dealer e come se vogliamo anche network, capace di creare proprio questo network e Bardini è fondamentale anche per gli allestimenti nel caso di Hortense e le avvolpi, tantissimi oggetti, 20-25 che ho ritrovato nel catalogo, ho pubblicato un saggio su questo, nel Pisa Bartolini Salimbeni, Vivai e poi c'è questo interessante gruppo di una ventina di fondi oro che vengono da queste interessanti collezioni di Frances Alexander di cui parleremo in un altro seminario. L'86 Anna Marks, una fotografa fiorentina, realizza tutta la campagna fotografica per un convittente, Harold Acton, che a quel punto notifica la collezione alla sovrintendenza, quindi è proprio una volontà documentaria. E qui abbiamo due immagini di Anna Marks, non soltanto importanti dal punto di vista Domi Montari, ma molto belle, le scelte proprio angoli di giardino, sembra molto affascinata fra l'altro dalla parte del giardino, ci sono 250 immagini delle sculture, anche per capire lo stato della conservazione. E la famiglia, che non sono squillionaires, anche qui è una battuta ma è così, ricordiamoci, noi non sono ai livelli di Frick e Morgan, però vanno avanti nel loro lavoro di collezionismo dal 1907 fino agli anni, diciamo qualcosa viene acquistato nel 1938, ma fino alle soglie della seconda guerra mondiale. Questa è una bellissima foto studio, abbiamo solo due immagini dell'intera famiglia, insieme, di posa, è interessante questo, no? Cioè l'idea di famiglia che viene rappresentata, non c'è sempre, no? Questa volontà di fermare la famiglia. Tantissime foto prese in giro per il giardino, ma non sempre la famiglia. Ecco, tre spaccati, no? Di cui poi parleremo anche durante il tour. Memoria, quindi la fotografia come memoria, quindi la famiglia. Mi preme sottolineare che Hortense viaggia moltissimo prima di arrivare nel 3 a Via la Pietra, viaggia a Singapore, in Egitto, a Chioto e poi anche durante gli anni a Firenze si sposta spesso in aree archeologiche. Qui ho avuto un'idea che forse dovremmo andare a vedere negli archivi a Berlino, non mi viene il nome dell'Università di Berlino, la sua presenza negli studi archeologici, perché ha un interesse per la fotografia proprio relative alla fotografia. E poi ho scelto questa immagine che tra l'altro appaia benissimo l'idea del viaggio in asinello, qui sono i due bambini, tra l'altro anche due figlie nel saggio di Usa Smith, nel volume dei tatti, mostra questa immagine di Mary Smith con due bimbe sul asinello e anche qui questa idea del viaggio in asinello. Questi sono spaccati della famiglia, quindi l'uso della fotografia per fermare la memoria, una retrospezione e una ovviamente diffusione della propria famiglia. La foto a colori è fondamentale perché è una stereoscopica, in quella slide lunghissima in cui parlavo di tutto, è importantissimo anche la presenza di queste lastre a colori che dovevano essere viste proprio come un momento serale con i visori. Quindi ci si radunava non intorno al computer, non intorno alla televisione, ma intorno ai visori ne abbiamo appunto in biblioteca. La memoria Hortense è la memoria di Arthur, la formazione, la sua attività di artista. Arthur è un pittore, nel 1897 lo vediamo con fondamentali figure della pittura tra l'8 e il scuola passa dall'Art Student League, passa anche lui da Mary Chase, che non abbiamo purtroppo fotografie di Chase in archivo, ma abbiamo un dipinto di Chase che ritrae Arthur, poi ve lo mostrerò. Vedete, ecco questo personaggio che costruisce la sua rappresentazione, perché l'archivio è pieno di immagini, proprio imposa un po' da artista Danny, pittore. Com'è come il pittore, qualità medio-bassa di Arthur, però vorrei fare un lavoro di ricerca per vedere appunto quali sono i suoi contatti, i suoi ritratti. Poi in mostra vedrete appunto un ritratto di Montgomery, di Monti. James Montgomery Flagg era un altro amico, un amico di Arthur. La memoria è anche non soltanto la famiglia, ma anche la società e i rapporti. Fondamentale è quello con i reali, siamo in omaggio di Queen Elizabeth, Queen Elizabeth non visitò Sir Harold, ma gli attribuì il titolo di Sir, l'altro per i giovani sottolineo è Sir, non Lord, quindi il suo titolo non è nobiliare, fu knighted, fu investito di cavaliere negli anni 70 e poi 80. E qui è la sorella appunto di Elizabeth, di Your Majesty Elizabeth, quindi Princess Margaret nel 1983. Questa è una foto di Milton Gandel che gioca con una maschera, un po' a pied di maschera. Ecco, non so se qualcuno di voi riconosce lo studioso. È Miklos Boscovitz? Stavo pensando. Giovane? Stavo pensando. Stavo pensando. Un po' a piedi, penso quasi a un storico dell'arte conoscitore. Tra l'altro davanti a Madonna Donatello, ora c'è stato un leggero spostamento, cioè ora New York University ha scelto un leggero spostamento nella sala pranzo di cui poi vi diremo, però qui si vede chiaramente questo dialogo, no? Di cui la villa era il miglioro scambio. E ovviamente, come non parlare nell'archivio fotografico della presenza di Berenson, poche scelte, bellissime immagini, questa appunto con Michi e Mariano stanno viaggiando verso Procida nel 52 vi dicevo Harold dopo la guerra dopo gli anni in Cina un capitolo a parte di cui oggi non parlo ma abbiamo quasi 1200 immagini dedicata al viaggio a Pechino a Beijing e alla vita di Sir Harold che è stata forse probabilmente la sua voglio dire prima eletta patria dopo l'Italia l'Italia e la Cina se la contendono e c'è una mostra online un progetto proprio hereduct in China sul sito mi è venuto immediato a parlare di Cina perché si parlava di Berenson e qui ci sono affinità che abbiamo un po' studiato nella collezione e differenze perché uno è un conoscitore e l'altro, cioè i genitori sono dei amatori amatori perché si divertono con le opere d'arte si divertono però l'elemento secondo oltre alla memoria è lo studio e il collezionismo chiamato Konosching Konosching? non so come si chiama Konosching che è misto fra Conosorship e Collective infatti non è mia è sempre di Islecht Magde o Kaustrelke uno dei due quindi Arturo e Hortense lavorano anche insieme non anche lavorano spesso insieme questo è un po' forse quello che mi piace portarvi oggi come elemento la collezione è sempre stata attribuita da Harold nelle memorie a mio padre la collezione è stata acquistata sicuramente con i proventi di Hortense Michel Arton il gusto dell'allestimento sposa diversi elementi e adesso si può cominciare a vedere studiando le fotografie dove c'è più un gusto di Hortense e un gusto più Arthur come si può evincere ci vogliono anni di visita in tante collezioni e musei a incrociare le presenze anche e il gusto sicuramente nel set dell'interesse primitivi c'è in Arthur che va a Perugia la famosa mostra all'esposizione di arte antica e loro scrivono cioè loro sono Charles Lewis una cartolina a Hortense alla mamma dei due bambini Harold e William sono nati nel 4 e nel 6 quindi c'è questo gioco in un saggio che ho titolato Vivendo e collezionando per proprio sottolineare questo elemento della vita vissuta nella collezione e poi ecco lo studio invece in questo caso questa grande croce dipinta del maestro San Francesco con tutte queste annotazioni sul retto della fotografia per poter poi farsi fare degli ingrandimenti e uno lo abbiamo esposto nella sala del croce fisso a misura reale e queste immagini sono fondamentali non solo per la storia dell'arte ma per la conservazione ovviamente e il gusto quello che è il gusto ma ovviamente questi sono scontati ecco nello studio collezionismo nel conoscere fondamentale è la annotazione nelle sulle fotografie di misure soprattutto nelle arti decorative perché c'è questo gioco della ricostruzione del togliere il pezzo di mettere un altro pezzo e vedete che la calligrafia è doppia quindi quella su da destra un po' più doppiosetta è Arthur quella un pochino più allungata è Hortense quindi si parlava ieri di Mary e Berenson ecco non lo fanno così perché siamo un altro veramente in un altro mondo però c'è questa dinamica di coppia ecco e diciamo il terzo elemento quindi abbiamo parlato di memoria di studio e di creatività lo si vede appunto nella creazione cioè per me gli ambienti sono proprio la loro creazione il loro divertissement che continuano a cambiare quindi abbiamo tantissime immagini soprattutto di alcune stanze caratteristiche questo è il salone all'inizio molto da Monsiano molto Gusto Ribura Proust gli odori i colori fra l'altro c'è una Mangea bellissima quella con la freccia insieme a Donatello quindi c'è questa volontà proprio alla sala ottocentesca francese per poi andare a purificarsi negli anni venti e trenta vedete qui appunto siamo nel 1910 perché questo è un ambiente comunque che si presta maggiormente quindi c'è questo rapporto più stretto con l'edificio cioè mentre un salone settecentesco si può ovviamente guardare il modello francese e il modello ottocentesco di gusto francese nella sala alla Sassetti della villa Sassetti rinascimentale si scelgono invece arredi più sobri una cartapessa di Jacopo Sansovino una bellissima madonna docentesca che stiamo studiando fra Pisa e Firenze forse più vicino a Firenze e Mariotto Di Nardo che vedete più a sinistra lo vedete sulla parete a sinistra di cui abbiamo messo una fotografia una fotografia grandezza reale per vedere proprio l'oggetto da vicino la creatività significa lo studio di altri attestimenti da Villa d'Ori di Gattaia a Elia Volpi non dimentichiamoci come è importante ricordare che nelle memorie Orthus scambia oggetti con l'osio quindi per esempio questo cavallo fu proprio scambiato per la Madonna del 200 attribuito a O'Groia di Tedice o a Massimo San Martino poi avremo altre attribuzioni da avanzati in un momento 10-16 e l'altro elemento invece per avvicinarmi alla conclusione della creatività per quanto riguarda l'opera pittorica di Arthur e William quindi la fotografia come strumento per comporre per creare anche composizioni artistiche ora voi vedete a sinistra un'immagine dello studio di Arthur negli anni 90 in Via della Robbia Arthur arriva a Firenze dall'Inghilterra intorno agli anni 80 lavora con Bardini perché lui è mediatore per Stanford White che morirà appunto nel 6 ma fino al 6 c'è proprio un commercio di opere d'arte documentato negli archivi Bardini però nello stesso tempo lui si forma sia a Parigi che come abbiamo visto a New York e a Firenze frequenta diciamo questo è ancora da studiare tra l'altro ci sono stati degli studi su Arthur e William non sono studi sono ricerche di presenze nell'archivio dell'Accademia di Belle Arti e abbiamo trovato che sia Arthur che William sono comunque presenti nella scuola del Nudo all'Accademia di Belle Arti di Firenze e questo è uno schizzo un bozzetto però vedete come l'uso della fotografia è fondamentale poi vedete un'altra immagine cioè nel vedere questo affaccio questo lo posso dire perché abbiamo immagini di fotografie proprio con le stesse punti di vista e William utilizza appunto la fotografia sia ovviamente nella sua ricerca di momenti divertenti ovviamente questa è la mamma che li fotografa ecco come facciamo a sapere che la mamma questo è nella sulla fotografia spesso c'è un taglio che è molto diverso da quello dello studio fotografico cioè sono molto molto fresh molto vivaci addirittura qui non l'ho tagliata io la fotografia è così cioè Harold viene tolto perché nello scatto fotografico perché qui si vuole dare importanza ovviamente al cane e a William sulla destra a Caesar si chiamava Caesar il cane e William qui invece fa parte di queste favole di divertissement che fra l'altro le passa la mamma perché Hortense viene da questo mondo delle fette galante anche molto fiorentine no? alla Bragiotti alla villa il palmerino all'averlo lì dove si vestivano e William appunto negli anni venti a Oxford che anche lui appunto studia negli anni venti a Oxford intavolava queste mise en scene vestiti lui è il personaggio sulla sinistra vestito da romano William nel 1936 è l'unica documentazione che abbiamo della sua opera fa una mostra a Londra devo recuperare l'articolo perché è stato scansionato e me lo devo far mandare però ho alcune tracce in cui si vedono sicuramente una bella raccolta di dipinti che poi sono stati per lo più dispersi in collezione ne abbiamo pochi veramente pochi forse due o tre quattro però abbiamo e qui la fotografia ci viene in aiuto una bellissima documentazione fotografica di questa mostra tra l'altro qui un bellissimo ritratto di Bridget Parson abbiamo anche una fotografia che ritrae proprio Bridget Parson quindi passiamo dalla sitter dalla fotografia alla persona che qui non ha messo per velocità allo schizzo disegno guardate com'è fotografico questo bellissimo disegno di William alla composizione un po' se vogliamo surrealista un po' surrealista con questo fatto con questa fusciacca Tamara de Lampica era una delle conoscenze di William e Harold nella Londra a Parigi e così da lì e così Picasso e così Cocteau ecco c'è questo filone dei modernisti degli anni venti che è importante è tutto da pubblicare di Harold chissà se non avesse avuto questo legato di portare avanti questa collezione anglo-fiorentina di fine ottocento avrebbe comprato anche lui non voglio dire del Picasso dei Cezanne però avrebbe anche lui collezionato forse staccato invece in realtà da una parte capisce nell'86 nel convegno l'idea di Firenze io me lo ricordo perché stavo facendo la mia tesi di laurea no scusate stavo facendo la maturità ora mi do due anni perché io stavo facendo la maturità e forse avevo appena finito i primi anni dell'università Giancarlo Gentilini mi invitò ero insomma molto giovane però mi ricordo questo convegno era fondamentale perché già si parlava di quello che era il mito rappresentativo e Harold Acton fece la prelusione sulle memorie di un ambiente forse alcuni di voi se lo ricordano quindi ecco lui è come se sigillasse tra l'altro Harold Acton scrive i suoi short stories il Botticelli Fantasma The Souls Gymnasium proprio negli anni 80 quindi è se vogliamo il primo biografo non solo della propria farmacologia in famiglia ma di quell'ambiente e quale biografo no? perché l'ha vissuto da dietro le pinte quando guardava e spiava dalla serratura ecco vado a concludere perché è tardissimo dipinto poco conosciuto se non sconosciuto di Arthur scusate di Arthur guardate questi riflessi questo è il Chase cioè il ritratto di Arthur fatto da William Mary Chase che abbiamo in collezione queste sono tutte opere che abbiamo in collezione e queste nature inanimate molto interessanti documentate da fotografie guardate come la luce sembra un elemento appunto sicuramente dietro c'è Surgent ci sono le peregrinazioni alla meridiana su e giù per la collina insieme a William Mary Chase e anche qui nella fotografia del giardino Arthur non so se non sappiamo se questo si può attribuire a Arthur però sicuramente nell'osservazione dei tagli fotografici fatti realizzare e qui si aprirebbe un capitolo a parte che so alcuni amano moltissimo abbiamo parlato appunto ieri di paesaggio però è quella fondamentale di tutta quella che è il lavoro di creatività dell'uso della fotografia per costruire il giardino neorenascimentale quindi il giardino era all'inglese a tempo negli incontri Arthur insieme a diversi architetti che non sono documentati negli archivi fotografici ma sono menzionati fa qui anche Platt l'altro Platt non Dan Fellows Platt ma l'altro Charles Platt ma anche Jeffrey Scott e altri personaggi sono menzionati come advisors Castellucci Giuseppe Castellucci ma non architetti quindi chi è l'architetto noi pensiamo sempre più che sia a questo punto Arthur che lavora con un team e poi ha dei veri capi giardinieri che piantano perché è molto hands on come la collezione è anche un mix out sicuramente però vedete come si lavora sullo spostamento di frontane lo studio delle viste fondamentali e come Hortense stessa si fa fotografare in giardino si fa dipingere in giardino giardino che nel 1931 al suo massimo splendore le fotografie sono esposte alla mostra il giardino italiano a cura di Dami Oietti e Tachiani Dami poi morì ma insomma comunque la progettazione era di Eurotré in cui si mette veramente un sugillo su quello che era il giardino toscano e compaiono le fotografie come modello di giardino all'italiano quindi si dimentica quello che è appunto la fase di ricostruzione e qui termino dicendo che a Villa la Pietra la libreria la biblioteca scusate ci racconta anche l'importanza delle presenze di Berenson 33 volumi di Roger Fry 4 volumi e di Horne due volumi quindi anche andare a vedere quelle che sono le notazioni di questi volumi di Eurotré per vedere quelle che sono nelle sue ingenuità alcune volte ma sicuramente grande divertismo un grande senso critico e sicuramente traghettatore di quella che è la legacy donandola alla New York in 1994 ringrazio ancora la fondazione Zeri Andrea Marti di Sia Camporeale Centrica e Stefano Pasolini per l'allestimento che poi vedrete in collezione scusate la lunghezza ma c'erano diversi contenuti grazie